Dove siamo? Siamo a Tunisi, qua partiamo da Etadamen. Etadamen è un quartiere periferico di Tunisi. Periferia di Tunisi. Periferia di Tunisi, sì. Adesso ci arriviamo tra poco. Ci fai conoscere in particolare... Piraz. Un ragazzo. 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 Sì, sì. of the Chinese Revolution, every time I would mention the word democracy, the sacrifices of people that died during the 2011 Revolution would come to mind. We need to basically recognize that che un po' di blucia ha scenduto per i Tunisiani per riuscire in questo mondo oggi. Quindi, la democrazia è la blucia che ha scenduto per il nostro paese di poter venire qui oggi e parlare del nostro disegremento con il nostro politico leader. Sì, magari la cosa che abbiamo fatto da la riuscire del 2011 era la libertà di speech e la capacità di andare in strada e raccogliere i nostri leader, a loro face, che stiamo disegre con la forma che stiamo dealando con i problemi. Amma che abbiamo affinato? Amma che hanno fatto iniziare un ruote Dio, l'abbiamo affinato. Beh, chi è altro? Nessun che ho fatto ha fatto, o che si mi sia piaciuto oggi. Ma è successo, è sempre una nuova. ma è un ruote divino. Ma è ormai. Ma è ormai, noi abbiamo fatti di riuscire a tutti going to forse, però è un ruote. Oggi ho fatto, Lui dice ora parlo e posso parlare ma ho ancora fame E rimpiange bene lì pur non avendolo vissuto Non avendolo in memoria però questo ci dà la misura di quanto il rischio della nostalgia La nostalgia di una stabilità non vissuta di fatto Firas aveva 10 anni nel 2011 Si stava meglio quando si stava peggio in sostanza più o meno Sì ma dateci una risposta purché una Quello che mi colpisce tra queste due piazze che dovrebbero parlare la stessa lingua È che in realtà quello che per una persona, per quella ragazza È una conquista della rivoluzione del 2011 Cioè possiamo scendere in piazza, possiamo lamentare Possiamo esprimere il nostro dissenso Per lui è una forma zoppa di conquista Perché lui al bardo nemmeno ci può arrivare a protestare Perché possiamo protestare ma abbiamo la pancia vuota Capisci la differenza? Andiamo avanti e vediamo queste proteste Grazie a tutti A lot of the protesters were actually children that were arrested People that were under 18 and they were detained With like actual adults in like adult type jails Con le loro mani Avell 상ro Come stato Abbando Bravo Abbando 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 Live Abbando 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.